Eeeh niente, sono tornata Venghino signori venghino, oggi facciamo Silencer e Honeychan Bene, cominciamo subito, subitissimo con Silencer che come si sarà capito TARASTA CHET Iniziamo con padre e figlio e io già sono sconvolta Ma a me state a dire che Bob, il produttore di Jugged Stone, è il padre di questa ciofeca di XY E quindi la puntata di Chitarric Ok, un passo indietro alla prima stagione Sto tipo aveva chiesto a Jugged di fare una musica più simile a questo Justin Bieber degli anni d'oro Perché le ragazzine assatanate se ne andavano pazze Ma lui si rifiutò, venendo akumizzato in Chitarric Ci siamo? Ok, ora Perché mai state a dire che questi sono padre e figlio? Cioè perché il produttore di Jugged non è stato direttamente il produttore di XY? Sti due rincoioniti, perché so dei rincoioniti si vedrà come parlano Hanno bisogno di nuove idee per un nuovo brano di XY E siccome il ragazzo è una ciofeca, come ho detto prima Quelli che fanno rubano le idee altrui Trono, quando vuoi Allora, i nostri freebooter quindi indicano un concorso per nuovi talenti E i nostri kickty section con l'indemognatissima Rose, ricordiamoci Vuole partecipare e Marinette realizza i costumi per tutti Un po' cringetti i costumi, vabbè Insomma, cringe come la loro canzone, tra l'altro Abbiamo la prossima sigla dei My Little Pony Comunque, mettetevi comodi che qui Adrion non si presenta manco per sbaglio Luca ha sbaragliato la concorrenza brutalmente E ha pagato per avere screen time per tutta l'intera cacchio di puntata Anche perché la prossima volta che ci saranno sia Luca che Adrion in una sola puntata insieme La cosa diventerà talmente imbarazzante che mi sono messa le mani sugli occhi per tutto il tempo Ma non parliamo di Desperada E torniamo ai nostri eroi Niente, sono stati fregati ragazzi Perché XY non si è preso la loro musica e il loro stile Senza pagare i diritti o citare le fonti Luca e Marinette quindi vanno a fa' il culo a ste merde Ma Bob minaccia Marinette di metterla sulla lista nera Niente più kitty section, niente più mondo della moda Caputte E Luca stavolta si è calzato sul serio Eppure proprio io non ce sta E l'unico magnate stronzo in tutta Parigi può essere solo lui Gabriella Greste ha una reputazione da difendere Luca viene quindi trasformato in silencer Che inquieta un casino con quello sguardo truce che te fa Shhh Insomma, te ruba le voci delle persone e se le riutilizza Allora, allora sei un freebooter pure tu O doppio freebooter se contiamo un Ursula incazzata che vuole i diritti per la sua idea Ora canta Ma la cosa più bella è come le riutilizza ste voci Facendoti il verso con la mano E niente, una volta tanto Ladybug è in pericolo perché Stustruzzed Bob La usa come scudo umano Usare come scudo umano una 14enne che schifo E silencer le ruba la voce Quindi Chat Noir si sente in dovere di parlare per entrambi E qua il doppiatore è stato pagato tanto Come sconfiggono quindi silencer i nostri due eroi? Siccome Ladybug senza la voce non può invocare i suoi poteri Grazie ad un sotterfugio riescono a far dire le paroline magiche a silencer Così da creare un lucky charm che l'aiuterà a sconfiggerlo E questo è un riferimento a Ghostbusters Lo so che la puntata di riferimento a Ghostbusters è Kwame Buster Ma... ma è praticamente la stessa cosa Insomma, vi state fributando da soli Astruk, caro, ho capito che so 5 stagioni e la fantasia Eh, lo so, scarseggia Ma a sto punto fai una stagione più breve e metterci soltanto puntate di trama Luca torna normale e Bob ammette le sue malefatti in tv Facendo esibire i kitty section in diretta Tutto finisce con Luca che finalmente gliela fa A fa una dichiarazione d'amore a Marinetta Altrimenti quella comunque hai voglia di aspettare che tanto non capiva da sola Limpida come una nota musicale e sincera come una melodia C'è la musica che suona nella mia testa dal primo giorno che ti ho incontrato È la Madonna Ah no, scusatemi, stavo a misurare la glicemia, l'eccesso dei zuccheri Non esistono ste dichiarazioni, meglio che lo sappiate E... niente... quello canta... Andiamo avanti Adesso c'è Oni-chan, che attenzione, non è Oni-chan, ma Oni, secca, una sola I L'oni è un demone con sembianze da orco nel folklore giapponese Avete presente l'RPG horror How Oni? Ecco, A-O significa blu E Oni demone, quindi demone blu Ecco, vi ho fatto un po' di storia Prego Iniziamo con Lila, quindi male Scopriamo che essere dei genitori assenti per i figli è una moda a Parigi Quindi aggiungiamo anche la madre di Lila tra i genitori che probabilmente vedono i figli, sì e no, a Capodanno Anche se sembra comunque più affettuosa di Gabriel, Tomoe e Audrey messi insieme Non che ci voglia molto effettivamente Vabbè, comunque sia, Lila esiste per un solo motivo Rompere le balle e dire una marea di cazzate, 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 cazzate Insomma, quella dice di aver bisogno di ripetizioni e novinate un po' chi va a chiedere Ma va, all'unico ragazzo veramente cacato in tutta la classe Adria è un uccio caro che è semplicemente troppo buono e gentiluomo per rifiutarla Marinette invece, che ha i radar per le stronzate di Lila, li segue da brava stalker qual è Anche se non so cosa spera di fare arrivata a casa Grest Scala il muro Ma tu non stai bene tesoro? Dove sono le telecamere, gli allarmi? Inoltre, non contenta, Marinette viene aiutata da sto vigile del fuoco Al quale racconta tutte le sue preoccupazioni per Adria e Lila Ma date un aumento a quest'uomo Quando perché si è assorbito il pippone di una ragazzina disperata nella sua cotta adolescenziale? Nel frattempo Lila, prima di entrare a casa Grest, deve passare per ostacolo Nathalie Che si vede palesemente non li scippa Il signore Grest è impegnato a lavorare e non deve essere disturbato per nessuna ragione Nel frattempo, Gabriel Wow, più impegnato di lui a lavorare proprio non ce ne sono Fissare la moglie a mezza morte è un modo fantastico di avere ispirazioni Lila quindi usa il metodo senso di colpa Ed è super efficace Eh, ma Adria non ci tiene tanto a far felice quella ciofeca che ha come padre Purtroppo, guarda caso, madonna mia È successo che a matematica abbia preso Devo essere forte Ha preso una A MENO Che schifo una A MENO Quindi mi sono magicamente proposta io di aiutarlo Nonostante in matematica si e no Prendo una Z Che non esiste nemmeno come voto Guarda un po' E poi lei è una brava seconda mamma Davvero vuole dire di no al suo bel figliocio Che tanto lei vuole bene Che vorrebbe solo un po' di amici nella sua vita E Nathalie, mannaggia a quella volta che si è affezionata a sto ragazzo Cede Iatta Quindi, Adrionda bravo ragazzo qual è? Studia Lei invece da brava sora impicciona Si impiccia di tutte le cose private e rompe le balle Hai una foto di Ladybug? Ah sì, lei mi... Ladybug fa schifo! Oh, e questa chi è? Ah, lei è Kagami un'amica Ma che brava ragazza Ma che me la fai conoscere? Ma poi non preoccuparti se magicamente non si presenta più a schermo a causa di qualche arto rotto Infine, per scatenare la bomba Fan selfie con Adrion Mentre gli dà un bacetto sulla guancia E lo manda tipo a tutta Parigi E ok, posso pure capire i compagni di classe Ma com'è possibile che questo messaggio 1. Arrivi alla stessa Kagami se due secondi fa aveva detto di non conoscerla 2. A Gabriel Che pure che Gabriel fosse un papà chioccia e avesse tutti i contatti del figlio sul proprio cellulare Cosa molto preoccupante Come fa lì là ad avere il suo numero? Scoprendo quindi che qualcuno ha osato molestare il suo figlio senza permesso Gabriel fa una strigliata di capelli a Natalie E no! E no! Obiezione vostro onore! La mia protetta qui presente stava solo cercando di essere una brava tutrice per il ragazzo In modo da rimettersi in pari con gli studi E in più permettergli di avere una compagna della sua età con cui poter fare amicizia Che la suddetta compagna fosse una bugiarda infame Questa mia protetta non poteva saperlo Eppure Adelon si è riguardato bene d'ardiglialo eh Decido io ciò che è utile per mio figlio Ah perché? Tu figlio? No scusa è che non me ne ero accorta sai Con la tua costante assenza nella sua vita So tre stagioni che dici di sapere cosa è meglio per tuo figlio Ma sto ancora aspettando che tu facci effettivamente qualcosa di concreto per lui L'unica qui che sta a provare a far genitore è Nathalie che non è nemmeno sua madre Ma almeno ci sta a provare più di te Guarda Gabriel te lo dico Mi sembra che è l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni Sono sempre io La stessa persona che poi prima o poi ti menerà Tornando a Kagami la ragazzina si stava allenando Davanti alla madre che sarà pure cieca Ma se lei fa per distrarsi un attimino Che stai a fa? Combatti muoviti o ti picco col bastone sa? Sarà veramente cieca La giapponesina quindi riceve il messaggio di lì là non so come E non è che non la prende proprio bene La prende proprio ma male malissimo Si dispera piange e si riguarda la rosa conservata da Frozer Persino Marinette la prende con più dignità E ora sta poveretta viene pure accommizzata E Papillon lo fa soprattutto per tenere lontana lì là da Drion Ora il potere di Oni-chan qual è? Cornificare lì là Metterle un corno su per la fronte Poi tutte le persone accanto allì là arriva un messaggio strano Che fa sostituire di posto quella persona con Oni-chan Inoltre siccome le bugiano le gambe corte e il naso lungo Il corno di Lila si allunga quando lei dice una bugia Alla fine però colpo di scenone Lila convince Oni-chan ad allearsi con lei per sconfiggere Ladybug Persino Papillon è scioccato da cotanta stronzaggine E se ne compiace pure No no Papillon no Papillon non famo cazzate Comunque manco quelle due messe insieme riescono a sconfiggere L'altra ennesima ragazza con la cotta per Adrion Quindi grazie anche a Shanoir e soprattutto al vigile del fuoco di prima Dategli una cazzo di medaglia al valore Ladybug sconfiggere Oni-chan Akuma e tutto il resto Finiamo con Adrion che si è finalmente stancato di fare il carino e coccoloso E dire sempre si 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 E manda affanculo lila finalmente Ma la nostra bugiarda compulsiva preferita non ha ancora finito con noi Diciamo che non ha ancora nemmeno iniziato Perché viene convocata da Gabriel per parlare di affari No polizia no no non è come pensa In pratica lei dice che Adrion si sente molto solo E quindi può incappare in cattive compagnie tipo lei praticamente E Gabriel Mi stai aprendo gli occhi su un problema che ignoravo del tutto What? What the fuck? Io penso che te l'abbia fatto notare tutta Parigi Guardate io spero davvero che Gabriel stia prendendo in giro lila per manipolarla Perché non posso credere a una cosa del genere Alla fine la ragazza si offre di aiutare l'uomo a scegliere le amicizie giuste per Adrion E consapevolmente i due si alleano anche da papillon e alleato Una ragazzina, una quattordicenne che è fottenuomo nei quarant'anni fatta e finito Che amarezza E che cosa è illegale Che amarezza Che amarezza